Ciao ragazzi, benvenuti nella sedicesima puntata della serie Pensieri. Oggi parleremo di The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch. Ho acquistato il gioco durante il Black Friday approfittato dell'offerta di Amazon, anche se, devo ammetterlo, ero abbastanza incerto se comprarlo oppure no. Non avevo mai giocato alcun capitolo della saga né in generale sono un fan di story fantasy. Comunque mi sono lasciato convincere e, dopo averci giocato per diverse ore, sono pronta a dirvi che cosa ne penso. Iniziamo dal packaging, che in questo caso è di alto livello. Oltre al gioco, infatti, troviamo un paio di stickers ed un foglietto di benvenuto. Un piccolo compendio che spiega brevemente quali sono le vicende pregresse, quali sono i personaggi principali e altri dettagli che chi come me non ha mai giocato le precedenti avventure può non conoscere. Ed infine, una bellissima mappa di tutto il mondo, davvero ben realizzata e stampata su una carta di buona fattura. Dovrebbe reggere nel corso degli anni, anche se non so quanto abbia senso utilizzarla. Ecco, sicuramente può essere comoda per farsi un'idea della vastità del mondo del gioco. Parlando del quale, essendo quella per Switch la versione complete basata sulla GOTY del 2016, il titolo arriva con le due espansioni Hearth of Stone and Blood and Wine già incluse, più tutti gli altri 16 DLC che nel corso del tempo sono stati rilasciati. The Witcher 3 è inizialmente arrivato sul mercato nel 2015, e nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe stato rilasciato su Switch. Sia perché non è recentissimo, ma soprattutto perché stiamo parlando di un gioco open world molto molto corposo ed esoso di risorse hardware. Ed infatti, per farlo girare su Switch, sono state prese alcune inevitabili decisioni su cui torneremo tra poco. Prima cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato da CD Projekt Red e basato sulla serie di romanzi fantasy The Witcher di Andrei Sapkowski. Come è facile intuire, stiamo parlando del sequel di The Witcher 2 Assassin's of Kings, pubblicato nel 2011. Ed il terzo capitolo è un open world con prospettiva in terza persona. Il giocatore controlla il protagonista, Geralt di Livia, un cacciatore di mostri appartenente alla razza dei Witcher. Egli sta cercando la scomparsa figlia adottiva che è in fuga da Wild Hunt, una forza ultraterrena determinata a catturarla per usarne poteri. Un Witcher può affrontare i pericoli con armi e magia, ed il giocatore deve interagire con i vari personaggi che popolano le terre al fine di avanzare nella quest principale oppure per ottenere missioni secondarie, le quali consentono di acquisire punti esperienza o oro che possono essere utilizzati per aumentare le abilità di Geralt o acquistare attrezzature. La storia centrale ha diversi finali, determinati dalle scelte che il giocatore fa in determinati punti del gioco. Lo sviluppo del titolo è durato circa 3 anni e mezzo, e la registrazione dei vocali ne ha richiesti più di 2 e mezzo. Questo perché il team ha cercato di evitare di semplificare i romanzi di Sapkowski, aggiungendo svariati aspetti realistici. Le culture dell'Europa centrale e settentrionale hanno costituito la base del mondo di gioco, e l'engine utilizzata ha permesso di creare una storia complessa senza compromettere la struttura open world di The Witcher 3. Inutile ricordare che Wild Hunt ha ricevuto il plauso della critica con elogi per gameplay, narrazione, design, combattimenti, etc., ed ha ricevuto numerosi premi Game of the Year. Ma in tutto questo, come si incastra la versione per Switch? Allora, chiaramente il gioco è quello, e per contenuti è uguale in tutto e per tutto alle GOTY Edition delle altre piattaforme. Ci sono tutti i menu di gioco, tutte le possibili azioni che sono disponibili sulle altre piattaforme sono presenti anche qui, la colonna sonora è la medesima, e via discorrendo. Dove ovviamente il discorso cambia è quando parliamo di resa grafica. Gli sviluppatori di Cyber Interactive, a cui è stato commissionato il porting del gioco, hanno fatto un lavoro incredibile per riuscire a far girare un gioco del genere sulla piccola ibrida di mamma Nintendo, soprattutto in modalità portatile. Però più di tanto, evidentemente, non potevano proprio fare. La risoluzione è variabile ed arriva al massimo a 720p in modalità docked per scendere a 540p in quella portatile, e chiaramente essendo variabile c'è la possibilità che diminuisca ancora nei momenti più concitati. Inoltre si è data molta più enfasi ai personaggi principali, riducendo la qualità delle texture e dei modelli dei personaggi secondari e degli scenari, aggiungendo nebbia e lontananza o ostacoli per evitare di renderizzare ambienti troppo grandi, più svariati altri trucchetti. Queste scelte sono state fatte per far sì che il gioco giri attorno ai 30fps in modalità portatile ed il più vicino possibile ai 60fps in quella docked, cosa che più o meno accade. Quello che tra virgolette fa sorridere è che i filmati interattivi realizzati con lo stesso motore grafico risultano decisamente più definiti e visivamente accettabili delle situazioni in-game, e quindi ogni volta che si passa dalle scene interattive al gameplay ci sono momenti di sgranatura o artefatti di vario tipo che si notano ancor di più. In modalità portatile, questa cosa comunque non dà particolare noia, e giocare in questa modalità è ciò che è praticamente consigliato da tutti quelli che hanno provato The Witcher 3 su Nintendo Switch. Ora che vi ho raccontato la trama ed ho affrontato la questione differenze visive docked è giunto il momento di darvi le mie considerazioni prettamente personali con le 3 cose che più mi sono piaciute e le 3 cose che mi sono piaciute meno. Stavolta voglio iniziare dai cosiddetti aspetti negativi, e prima tra tutti ci metto il gameplay stesso. Attenzione, questa è una mia considerazione assolutamente personale basata unicamente sui miei gusti, ed è ovvio che per gli amanti dei giochi di ruolo ad ambientazione fantasy The Witcher 3 possa apparire come il sacro Graal. Questo io lo accetto e non voglio assolutamente ritenere il mio pensiero superiore. A me, però, che il fantasy non dice nulla e che trovo un po' troppo, tra virgolette, complessi la gestione del personaggio, dei combattimenti e gli innumerevoli filmati interattivi che in certi momenti interrompono l'azione, il gameplay risulta a volte un po' frustrante. Per farvi capire cosa intendo, posso fare un veloce confronto con Zelda Breath of the Wild, gioco simile a questo e che ritengo ancora oggi uno dei più belli che abbia mai giocato. In Zelda tutto è incentrato sul giocatore, è lui che decide dove andare, come uoversi, cosa fare, in che ordine farlo, non ci sono interruzioni di alcun tipo mentre si gioca, i combattimenti sono molto più action barra arcade o volendo semplici, ma allo stesso tempo immediati. E, a parte un po' combinare i cibi per avere posioni e smilia, non c'è molto altro da imparare. In The Witcher 3 c'è il mondo, dalla gestione dei livelli del giocatore, potenziamenti, l'abilità, le carte, le armi principale e secondaria, le magie, cosa usare in quale combattimento, cosa non usare, e via discorrendo. Per carità, tutto ciò permette di avere un personaggio davvero unico, però di sicuro gestire tutto ciò non è una cosa super intuitiva, o perlomeno non lo è per me. Lo stesso vale nei combattimenti. In Zelda si va avanti fondamentalmente ammazzate con 2-3 possibilità di attacco. In The Witcher 3 bisogna studiare l'avversario, cosa fa, scegliere le armi o magie corrette, ci sono poi più tipi di colpo e ci sono le pozioni che possono cambiare il corso della lotta e tanto altro. Non so, come detto, per gli amanti del genere è sicuramente una cosa fantastica. Per chi cerca un gameplay più immediato, sicuramente no. Sia chiaro, molte di queste cose probabilmente le si possono in qualche modo ignorare, ma fino ad un certo punto. Comunque, ci tengo nuovamente a ribadire che non lo considero un aspetto negativo del gioco in sé, quanto più una cosa a cui io personalmente non sono molto interessato e che mi distrae dall'avventura stessa. Quindi, se avete gusti simili ai miei, tenete in considerazione questo aspetto. Al contrario, per voi tutto ciò potrebbe addirittura essere un punto a favore. Il secondo aspetto è ovviamente legato ai compromessi che sono stati fatti per far girare il gioco su Switch. Inutile girarci attorno. La grafica su TV in modalità dogged è praticamente un pugno in un occhio. Ci sono momenti concitati in cui l'immagine sgrana tanto, e poi subito va a contrasto con i filmati interattivi che invece sono grossomodo di buona qualità. Il mio consiglio, come quello di chiunque abbia provato il gioco, è di tenerlo in considerazione se e solo se pensate di giocarci in mobilità, altrimenti potreste restare delusi. Ed i primi due punti convergono nel terzo. Se è vero che è meglio giocarci in mobilità, e se è vero che c'è da smanettare nei menu per gestire opzioni, leggere le missioni da fare, consultare il bestiario, gli altri documenti, gestire le carte, le armi, potenzialmente il personaggio, etc., 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 e visto che ci sono un sacco di dialoghi interattivi e che il parlato di gioco non è in italiano mentre tutto il resto dei testi sì, quindi ci sono i sottotitoli in ogni filmato, beh, le scritte non sono proprio gigantesche. Io non ho particolari problemi, però la sera magari con gli occhi affaticati, etc., la cosa può infastidire. Insomma, considerate che è la stessa identica UI che è stata, pensata per un uso su PC o TV via console, zoomata per entrare nello schermo da 6.2 pollici di switch. Un problema che purtroppo hanno diversi porting fatti 1 a 1 per switch, qui forse si nota anche meno di altri, ma comunque per me è un aspetto da tenere a mente. Ora, questi sono gli aspetti per me tra virgolette negativi, e sono fondamentalmente cose abbastanza secondarie. Capirete benissimo, perciò dove voglio andare a parare. Comunque quello che più mi è piaciuto di The Witcher 3 è che 1 è un open world immenso, c'è una marea di cose da fare tra ambizioni principali e secondarie, spesso anche più interessanti di quelle principali. La storia può piacere, soprattutto a chi ama il genere, ed in generale può incollare allo schermo. Anche se non apprezzo particolarmente il continuo passaggio tra filmati interattivi e puro gameplay, essi sono realizzati molto bene, e poi mi sembra molto azzeccata la possibilità di cambiare il finale in base a ciò che l'utente decide di fare. La colonna sonora, poi, è notevole. 2. Anche se ho detto che il gioco è per me un po' troppo complesso, nel senso che richiede un sacco di attenzione sul personaggio, su quello che si fa, etc., allo stesso tempo sono contento che sia possibile affrontare questo aspetto a più livelli, dal paranoico dei potenziamenti tipici dei giochi di ruolo più spinti al meno esigente giocatore da titolo action-adventure. E ancora una volta, anche se il gioco consente varie combinazioni di tasti da premere durante i combattimenti e ho notato a volte essere un po' legnose, ugualmente l'utente può tentare di essere un po' più avventato e meno stratega e riuscire comunque a procedere nell'avventura. 3. Apprezzo tantissimo l'esistenza stessa del porting di un gioco come questo, soprattutto perché, tirando le somme, è un prodotto che ci sta. Aiuta l'ecosistema Switch ad espandersi e fa da esempio per tutti quegli studi affinché prendano in considerazione l'idea di portare anche i loro giochi sulla piccola ibrida di Nintendo. Tra The Witcher 3, la serie Doom e tanti altri AAA, Switch non può che beneficiarne se i porting sono ben fatti, e con essa anche noi giocatori. Insomma, riassumendo, il titolo è un buon porting per Switch perché non ha compromessi lato contenuti, ma invece ne ha lato grafica. Non compratelo se pensate di giocarci solo su TV a meno che, come me, non abbiate nessun altro modo per giocare, e compraterlo per giocarci il 99.99% del tempo in mobilità. Allo stesso modo, sappiate che è un gioco fantasy che richiede molta attenzione sul personaggio, sulle interazioni con gli altri, etc., e che quindi, se non amate queste cose, non fa per voi. Se vi piacciono, invece, ha sicuramente un'ottima storia e ambientazione. Bene, queste erano le mie considerazioni su The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch. Voi avete mai giocato ad uno dei capitoli della saga? O magari avete provato il porting per Switch? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, così come fatemi sapere se avete trovato questo video utile. Inutile ricordarvi che, se siete interessati a maggiori catture dal gioco, le potete trovare sul mio canale secondario dedicato al gameplay, linkato in descrizione e nelle schede qui in alto. A questo punto credo di avervi detto tutto, non mi resta altro che salutarvi, ci sentiamo presto! Ciao! Ciao!